Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda parte di ottobre 2022. La giustizia, amici della bilancia, sento che con la giustizia arriverà una sorta di, come vi posso dire, regola, regola, regolazione, di qualche tipo di accordo, quando c'è la giustizia si parla sempre di qualche cosa che viene alla luce, di contratti, quindi nel caso siate senza lavoro potrebbe arrivare un'offerta di lavoro o magari potreste firmare quell'accordo con quel vostro cliente o fornitore, insomma, molto vantaggioso. Andiamo a vedere con gli oracoli di che cosa si tratta. messaggio in una bottiglia, qualcosa viene a galla. Andiamo a vedere. Qui fa vedere un telefono all'interno della bottiglia, quindi qui si tratta un po' di cogliere i segnali o magari arriva veramente una chiamata o una notizia inerente appunto qualche tipo di contratto, qualche tipo di accordo che vediamo qui con la giustizia. Molte volte fa riferimento alle questioni burocratiche e anche ai contratti di anime, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se poi volete completare il vostro messaggio oppure non vi risuonasse questo segno, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Sotto nella descrizione del video trovate la mia e-mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, devo dire che la nuova lettura ha suscitato, insomma, interesse, piace. E' anche vero che qualcuno mi ha fatto notare che con i mini tarocchi si va più a fondo. E' vero. Diciamo che le due letture si differenziano l'una dall'altra, nel senso che questa è una lettura generale per i prossimi 15 giorni, quindi con questo genere di stesa si va a vedere in generale un po' tutti i settori della vostra vita. Mentre con l'altra, anche se era una lettura in generale, però si andava a vedere il movimento principale del periodo, quello che era più, diciamo, importante, e lo si andava poi a spiegare meglio. Però guardava una cosa sola, diciamo così. E invece qui mi sembra un pochettino più completa, ecco, per il tipo di lettura che voglio fare, quindi la lettura generale. E' anche vero che con questa lettura ho bisogno di vedere tutte le carte stese, quindi non posso iniziare subito a parlare. Quello che vi posso dire è che vi posso iniziare a raccontare le carte. Allora abbiamo la sacerdotessa, il 3 di bastoni, il 6 di spade, abbiamo la trasfigurazione, la chiama qui, al contrario, 7 di spade al contrario, la carta del mondo, il 2 di coppe, l'asso di coppe, andiamo a vedere qui come si termina. 3 di spade al contrario, e qui abbiamo un 3 di pentacoli al contrario, la regina di spade al contrario. Wow! Allora, la sacerdotessa, questa è l'energia, diciamo, di base del periodo. Si parla di intuizione, qualcuno qui deve affinare l'intuito, perché in realtà voi sapete, siete al corrente di certe cose. Vi ricordo che la giustizia parla di cose che vengono a galla, ok? Di cose che sono nascoste dietro il velo. E qui si tratta di, sì, con questo 3 di bastoni, di capire come potersi espandere, mi verrebbe da dire. Allora, da un punto di vista, diciamo, spirituale, vi dico che molte persone con questa sacerdotessa potrebbero anche iniziare qualche tipo di studio introspettivo, qualche tipo, può anche essere una carriera, non necessariamente uno studio di tipo esoterico, però c'è un nuovo tipo di approccio a qualche nuovo interesse, mi verrebbe da dire. C'è una sorta di espansione, se già siete persone che lavorano nel campo olistico, ipotesi, potrebbe esserci un'espansione, un aumento, diciamo così, dell'offerta ai vostri clienti, o semplicemente un aumento di interesse. Se magari vi interessate di rune, piuttosto che di tarocchi, insomma c'è questa rinnovata, rinnovato di vino femminile, mi verrebbe da dire. C'è più percezione, più attenzione anche ai messaggi e ai segnali che arrivano. Io ricordo che il messaggio in una bottiglia è vero, qua fa vedere il telefono, però comunque parla anche di segni che arrivano. E qui avete le antenne dritte con questa sacerdotessa, ok? Però, cosa succede? Che ci sono determinate influenze familiari che in qualche modo vi confondono, perché comunque abbiamo un 6 di spade e parla di quelli che sono i condizionamenti dovuti alla famiglia e abbiamo anche un 7 di spade al contrario. Quindi qui c'è anche la giustizia, ragazzi c'è qualche cosa che in questo periodo verrà a galla, qualche cosa che verrete a sapere che in qualche modo vi destabilizzerà, perché comunque abbiamo questo 3 di spade al contrario. Può far riferimento per qualcuno al doversi allontanare da, sì, certi tipi di pensieri piuttosto di credenze, ma per qualcuno si tratta proprio di un allontanamento fisico, magari dovete prendere distanza da qualcuno. Avete anche la carta della morte al contrario. Qui c'è bisogno di fare una trasmutazione, di cambiare qualche tipo di situazione, relazione, attitudine. Quando c'è la morte normalmente si parla di nuovo, tagliare come la carta della giustizia qualcosa che non serve più per la vostra evoluzione. Qui bisogna che facciate riferimento a voi stessi, a quello che è giusto per voi, a quello che il vostro intuito vi dice che sia giusto per voi, ok? In realtà, davvero, sento che dovete fare affidamento solo ed esclusivamente su voi stessi. Diciamo che non mi sento in un ambiente pulito quello che vi circonda, che sia gli amici, piuttosto che la famiglia, piuttosto che il luogo di lavoro. Insomma, in questa zona della lettura ho delle carte un po' pesanti. E anche qui, perché c'è questo tra di spade, che comunque sì, è girato al contrario, però c'è. Qui si tratta di capire a chi dare la gestione delle vostre cose. C'è qualcuno qua di cui non dovete fidarvi. Per qualcuno un amico di famiglia, vi dico, per qualcun altro è un'amica o una zia di famiglia. C'è qualcuno in qualche modo che vi sta facendo credere, io credo con questo 6 di spade, che voi non siete all'altezza di fare qualcosa. E' un po' come se ci fosse qualcuno che vi tappi un po' le ali, vi stia demotivando. Attenzione perché quando c'è il set di spade si parla anche qui di proiezioni, quindi di qualcuno che sta magari cercando di mettervi in testa cose che sono una sua proiezione, che magari non rispecchiano voi. Quello che secondo me è positiva di tutta questa lettura è il lavoro. Perché a livello emotivo davvero vi sento, avete bisogno di prendere distanza, probabilmente se siete in coppia potrebbe essere che avete bisogno di prendere proprio distanza dal vostro partner, dalla partner, anche se lo fosse dagli impegni familiari. O per qualcuno c'è qualche tipo di peso che arriva dalla famiglia di origine, qualche tipo di credenza che arriva dalla famiglia di origine, che sta un po' appesantendo tutta la questione, secondo me. Vi dico, se siete single, invece, qui c'è da lasciarsi indietro prima una determinata storia che probabilmente vi condiziona ancora, ok? Avete la carta del mondo, quindi si cambia, si va verso il cambiamento, il lavoro che vi permette di fare la sacerdotessa. Comunque è un lavoro appunto di introspezione, di connessione con il vostro sé superiore, quindi entrare in contatto con voi per avere una conoscenza profonda di voi, entrare in contatto con il vostro mondo interiore, con quello che è il vostro bambino interiore, ok? E sento che molte persone qui faranno un compromesso, hanno fatto un compromesso con se stessi, mi vorrebbe da dire. Per qualcuno invece magari si tratta di un compromesso con magari un terapeuta o qualcuno che potrebbe in qualche modo venirvi in aiuto. Da un punto di vista della salute fisica vi dico, non va male, non va male, anzi vi sento piuttosto pieni di energie, è un po' forse il lato emotivo, quello un po' più carente, ma perché sento che non mi potete tanto fidare delle persone che vi sono intorno, quindi occhio i segnali, ok? Come vi dicevo, da un punto di vista lavorativo vi sento bene invece, nel senso che, ripeto, avete questa carta del mondo, avete la carta della sacerdotessa, avete il 2 di coppe che parla di accordi e compromessi e un asso di coppe, si parla di qualche nuovo inizio, qualche cosa che cambia, qualche cosa che cambia in meglio comunque, si va verso nuove prospettive, si va verso quello che è l'espansione. L'unica nota dolente, qui io credo che siano un pochettino le finanze, ma proprio per questa giustizia che c'è di mezzo, c'è qualche tipo di questione, secondo me, che è proprio a livello familiare, che bisogna tagliare per dare la possibilità a questo asso di venire fuori a questo nuovo inizio, di poter effettivamente cominciare. Può essere che qualcuno qui abbia qualche questione burocratica proprio legato. Non mi viene tanto un'eredità, nel senso come questione fisica, ma è più un prendersi la responsabilità di qualche cosa o di qualcuno magari. Però ecco, fate attenzione perché c'è una persona vicino a voi in questo periodo che cerca un po' di forviarvi, vi fa sentire un po', vi svilisce, sento che vi tapperà un pochettino le ali, cercherà di farvi credere di non essere all'altezza, di affrontare un certo tipo di situazione. E invece quello che vi dice la sacerdotese, filatevi solo di voi stessi, ok? C'è un asso di coppe, ripeto, c'è un due di coppe, quindi si va verso un nuovo inizio. C'è la carta del mondo, che è comunque un inizio positivo, la chiusura di un ciclo per l'apertura di un altro ciclo. Quindi io la vedo positiva, ma non fatevi condizionare troppo dalle persone che avete intorno, perché molte persone sono false, ok? Non sento che faccia tanto riferimento a un ambiente di lavoro, eh. Fa più riferimento a qualche amico, qualche parente. Ognuno lo applica e la propria situazione personale. Ok, andiamo a vedere qualche carta. Ho tre mazzetti, in realtà, uno blu, uno giallo, uno rosso. Ognuno di loro ha scritte delle frasi che, diciamo, voglio siano uno spunto di riflessione. Potrebbero risuonare, ma potrebbero anche non risuonare. Prendetelo appunto come un input su cui riflettere, uno spunto. Allora, le carte blu ci dicono qualcosa sulla situazione attuale, perché mi è difficile rialzarmi in piedi. Qui vediamo un asso di coppe, un nuovo inizio, eh. La carta del mondo, chiusura e apertura cicli. Ah no, scusate ragazzi, non vi ho detto. Se siete senza lavoro, non ve l'ho detto, perché c'è la giustizia. E c'è anche la carta del mondo, e c'è anche l'asso di coppe. Potrebbe essere che qualcuno trovi lavoro, ma ha bisogno di spostarsi, c'è bisogno di fare un viaggio, anche di larga distanza. Ho due carte che mi parlano di viaggi, diciamo, lunghi, di lunga percorrenza. Quindi, se state cercando lavoro, ci sono buone probabilità. Il messaggio nella bottiglia fa proprio riferimento a qualche tipo di messaggio che potrebbe arrivare. Ok, andiamo a vedere una carta gialla, che fa riferimento a quelle che potrebbero essere le credenze limitanti inerenti a una situazione o una questione. Allora, perché resto attaccato al passato o attaccata al passato? Sei di spade, le credenze limitanti che dovete pulire fondamentalmente. E poi abbiamo perché non posso fare niente da solo. Lo sento un po' qui questo. Perché non ho in realtà carte di dipendenza, carte di... Beh, sì, ho una carta di proiezione in realtà. Ho il set di spade e ho anche la regina di spade che, girata al contrario, parla sempre di confusione mentale, di idee un po' annebbiate. Quindi qui può essere che ci sia il bisogno di, appunto, lavorare semplicemente su se stessi, andare alla ricerca del proprio inconscio, scusate se del proprio intuito, mettersi in ascolto, diventare ricettivi, aperti e ricettivi, a quello che il vostro sé superiore fondamentalmente vi deve comunicare. Un modo, se non riuscite in qualche... Se non siete, diciamo... Se non riuscite a creare un contatto, tra virgolette, attivo con il vostro sé superiore, una cosa che potete fare è, in un momento di meditazione, di tranquillità, di calma, chiaramente, porre una domanda, con l'intenzione di chiederlo, cioè proprio al vostro sé superiore, chiedete, fate una domanda, rimanete lì in ascolto. Finite i vostri 5-10 minuti, 15-21 ora di meditazione, quello che fate di solito, e dopodiché rimanete proprio ricettivi, aperti, ai tipi di segnali che vi possono arrivare durante la giornata. Perché in qualche modo le forze superiori comunicano con noi nel modo in cui noi siamo pronti a percepire la comunicazione. Quindi se noi non siamo pronti, per esempio, a percepire un'immagine, non ci arriverà mai un'immagine, ci arriverà un tipo di segnale che noi siamo in grado di interpretare. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la stesa. Andiamo a vedere per i single. Ragazzi, io sento che molti di voi stanno facendo un grande lavoro di manifestazione per l'anima gemella, ma anche qui sento che forse è necessaria una sorta di pulizia, perché potreste proiettare sulla vostra... La giustizia parla di regole, no? È un po' come se sentissi che qui qualcuno ha delle regole verso le aspettative che ha nei confronti dell'altro. Deve essere così, deve fare così, si deve comportare così, però quella è una vostra proiezione, cioè... Non è un... Disegnatelo allora, nel senso... A un certo punto si tratta di conoscere una persona così com'è, ok? Senza finzioni, e capire se quella persona può essere per noi o no. Cioè, cambiare una persona non va mai... E anche nel caso nostro, cioè nel senso, cambiare noi per piacere a un'altra persona, anche lì non va mai troppo bene, no? Perché comunque non è un essere naturale, è mettere una maschera. E vi ricordo che richiede un grande sforzo a mantenere una maschera. Ok, andiamo a vedere una carta da parte di questi oracoli, allora per chiudere la lettura... Wow! Carta numero 43, ve la metto qua di vicino, il tuo spirito eterno, sé superiore, che è quello di cui parlavamo prima con la sacerdotessa, e intuizione sacra, che è quello di cui parlavamo prima con la sacerdotessa. Quindi fidatevi della vostra intuizione. Fidatevi di quello che sentite dentro. Soprattutto, visto che avete questa carta di proiezione, il set di spade, il contrario, parla sempre di qualche verità scomoda. Avete anche la giustizia che viene a galla, e qui abbiamo il messaggio nella bottiglia, che si parla di messaggi, di segnali, e cose di questo genere. Diciamo che qui è proprio un qualche cosa di cui prenderete consapevolezza. È un qualche cosa che vi serve per... Sì, per pulire, come vi dico, la giustizia taglia i pensieri, taglia quello che non serve. Rivolgetevi al vostro sé superiore. Cercate quelle risposte, come vi ho detto, e vedrete che piano piano le cose si rischiareranno. Bene, cari amici della bilancia, spero che la lettura vi sia stata utile, che insomma le informazioni che sono arrivate siano state sufficienti. Se sì, potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto è ben accetto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!